Ciao a tutti, amici di Caltanissette e provincia, amici siciliani, amici italiani. In questo momento ci troviamo tutti a casa, reclusi, al riparo da questo maledetto virus che non ci sta dando scampo, in questo momento di emergenza mondiale senza precedenti. È possibile che, insomma, chiusi a casa, adesso è da un sacco di tempo che siamo chiusi a casa, sicuramente qualcuno starà lì per impazzire, per sclerare, effettivamente è normale. È una condizione abbastanza anomala per l'essere umano. Ma in questi momenti il nostro cuore diventa piccolo così. Sono i momenti in cui è più facile pensare negativamente, che non ricominceremo, chissà quando ricominceremo, chissà che cosa succederà, quando potrò riappropriarmi della mia vita, della mia libertà. Non lo so, questo non lo so quando succederà, non lo sa nessuno, credo. Ma forse anche il cuore ha bisogno in questi casi di una piccola medicina, e la medicina per il cuore è sempre stata la poesia. A proposito di questo, è venuto di recente a mancare il grande scrittore Luis Sepulveda, uno scrittore che sicuramente tutti conoscete, era uno dei miei preferiti, ho letto tanto di lui, che ha resistito fino alla fine. E questo forse è che ci serve al momento, questo grandissimo valore, il valore della resistenza, del resistere. Senza la resistenza, senza resistere, Luis Sepulveda non sarebbe diventato quello che è diventato. E volevo leggervi questa piccola poesia di Luis Sepulveda, straordinaria, piccola ma rende subito il senso. Ammiro chi resiste, si intitola. Ammiro chi resiste, chi ha fatto del verbo resistere, carne, sudore, sangue, e ha dimostrato, senza grandi gesti, che è possibile vivere, e vivere in piedi, anche nei momenti peggiori. E se lo dice Sepulveda. Grazie di avermi ascoltato, spero vi sia piaciuta la poesia, fatene tesoro, e speriamo di rivederci presto, di riuscire presto, e che questo finisca prestissimo. Ma nel frattempo, però, mi raccomando, resistiamo.